benvenuti a video backlight benvenuto a questo nuovo appuntamento si sono concluse le consultazioni elettorali che hanno decretato la vittoria del centrodestra con numeri davvero importanti alla camera e al senato insieme ad open great itale abbiamo pensato di fare questo video per raccontarvi quelle che saranno le prossime tappe per la formazione del nuovo governo alla camera 235 sono i seggi che sono stati attribuiti al centrodestra 80 centrosinistra 51 momento 5 stelle 21 al terzo polo al senato saranno 112 i senatori del centrodestra 39 del centrosinistra 28 del momento 5 stelle 9 del terzo polo 1 de luca sindaco d'italia la prima riunione delle nuove camere è prevista per il 13 di ottobre e secondo l'articolo 61 della costituzione questa deve avvenire entro 20 giorni dalle elezioni nel corso prima della prima seduta saranno eletti i presidenti delle due assemblee di camera e senato entro due giorni dalla prima convocazione alla camera e dentro tre giorni al senato si costituiscono i cosiddetti gruppi parlamentari per prassi ogni gruppo parlamentare eleggerà il proprio capogruppo che indicherà il presidente dell'assemblea l'appartenenza alle commissioni permanenti dei propri parlamentari successivamente ogni presidente d'assemblea sulla base delle proposte dei capogruppo definiranno la composizione delle commissioni permanenti arriviamo così al termine della cosiddetta prima fase si va alla fase dell'incarico una fase davvero molto 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 importante per prima il capo dello stato ascolterà e incontrerà i presidenti delle due camere poi le delegazioni delle forze parlamentari quasi sempre saranno presenti leader di partito con con i capogruppo una data possibile delle consultazioni potrebbe essere quella del 24 ottobre per galateo istituzionale il presidente incontrerà le forze politiche meno consistenti fino a arrivare alla alla più consistente al termine delle consultazioni presenta la repubblica conferisce l'incarico per la formazione del nuovo governo si va alla fase della della nomina il presidente incaricato accetta la nomina con riserva e dopo brevi consultazioni con le forze politiche perché dovrà in qualche modo capire se c'è una maggioranza ma in questo caso i numeri i numeri ci sono scioglierà la riserva accetterà l'incarico a questo punto il presidente incaricato indica i ministri in maniera molto semplice indichiamo quelle che sono le le future tappe firma e controfirma dei decati di nomina del presidente del consiglio dei ministri e si arriva alla cosiddetta fase del giuramento e la fiducia qui abbiamo il giuramento del presidente del consiglio dei ministri ci sarà la convocazione del primo consiglio dei ministri in cui viene nominato sottosegretario alla presidenza del consiglio ricordiamo che la composizione del governo poi sarà completata con la nomina dei viceministri sottosegretari che la legge fissa in 65 il numero massimo di componenti dell'esecutivo e massimo 10 i viceministri entro dieci giorni dal decreto di nomina il governo deve presentarsi davanti a ciascuna camera per ottenere la fiducia una volta che il governo ha ottenuto il voto di fiducia da entambe le camere si costituiscono le commissioni parlamentari permanenti ma ritorniamo un concetto di fiducia che è molto importante anche per ricordarci il rapporto che il cittadino ha con lo stato e la fase di fiducia è regolata dalla legge 23 agosto dell 88 numero 400 che disciplina l'attività di governo ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri la formula del giuramento giuro di essere fedele alla repubblica di osservarne lealmente la costituzione le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione andiamo adesso a vedere quelli che sono i prossimi passi che aspettano che aspettano il governo i passi più delicati il 27 settembre il governo presenta le camere alla nota di aggiornamento al def quindi la cosiddetta nadef successivamente entro il 15 ottobre il documento programmatico di bilancio verrà spedito e trasmesso alla commissione europea all'eurogruppo e dentro il 20 ottobre il governo presenta a parlamento il disegno di bilancio questi i prossimi passi che aspettano il prossimo governo a cui vanno i migliori auguri per il bene anche dell'italia ciao 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 ciao